Allora, buongiorno ragazzi, siamo sempre qua, un'altra avventura, un'altra avventura, stavolta rifacimento bagno, madame che roba, prima si abbiamo passato il nostro bel Primus, Primus Giorgio Gresan, e adesso si passa il nostro istinto, lo potete vedere, io in collaborazione sempre con Tano di Mappano, sta facendo l'effetto zen, guardate che roba, poi dopo si passerà alla compattatura, dopodiché alla colorazione, guardate, questo qua l'ha già graffiato, vedete, eccezionale, prodotto straordinario, straordinario, Tano di Mappano, se vuoi dire qualcosa ogni tanto, anche tu, non parla, Tano di Mappano, il attuale è il numero uno, sei tu, no, sei tu, sei tu, e allora io vi saluto, alla prossima, buon lavoro a tutti, baci 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 baci.